Kate, la duchessa di Cambridge e il principe William è improbabile che seguano percorsi simili a quelli del principe Harry nella pubblicazione di memorie sulle loro vite o l'interno della famiglia reale, ha detto a Express.co.uk un esperto di marchi reali, il duca di Sussex, 37 anni, ha rivelato l'anno scorso che avrebbe dovuto pubblicare memorie che sarebbero state del tutto veritiere rispetto alle sue esperienze. Le memorie erano state provvisoriamente programmate per la fine dell'anno, anche se rapporti contrastanti mettono in dubbio esattamente quando arriveranno sugli Scaffali, il libro di memorie, pubblicato da Penguin Random House, sarà il resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita del duca. Ma una tattica simile non è quella che il duca e la duchessa di Cambridge avrebbero probabilmente impiegato per contrastare le narrazioni del Sussex, ha detto un esperto reale a Express.co.uk. La professoressa Pauline McLaren, della Royal Holloway, Università di Londra, ha descritto come il duca e la duchessa di Cambridge non possono permettersi di adottare una tale strategia di pubblicare memorie. Punto punto. Ha spiegato come il rilascio di una forma di memoriale rivale non si sarebbe rivelata una mossa vantaggiosa per il duca e la duchessa di Cambridge, poiché sono ancora entro le aspettative della condotta della famiglia reale. Il professor McLaren, coautore di Royal Fever, ha aggiunto che avrebbe inviato il messaggio sbagliato da Kensington Palace, costituendo un'azione sconveniente progettata per guadagnare popolarità. Punto. Una tale mossa spingerebbe anche lo studio a corteggiare lo status di celebrità, ha aggiunto. Ha detto a Express.co.uk, è probabile che William e Kate non siano affatto tentati da questa strategia. In ogni caso non funzionerebbe per loro, poiché portano oneri più tradizionali nei loro ruoli e non possono permettersi di essere visti come ribelli. Al prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti